I finanziamenti che sono stati resi strutturali negli ultimi anni attraverso una forte radicazione delle risorse da parte dello Stato e da parte della Regione hanno creato questa capacità di programmazione e stanno creando questa capacità di programmazione da parte dei comuni attraverso questa collaborazione nella governance con la Regione. Bisogna anche lavorare, bisogna sottolineare alcuni punti in maniera schematica. Uno, la semplificazione nell'accesso al finanziamento perché le pratiche sono tante, i progetti, la burocrazia eccetera eccetera. Faccio l'esempio dell'ultimo mando FESR, quello che si è appena chiuso nel mese di marzo. Insieme a Regione Liguria l'assessore Benvenuti ha voluto fortissimamente questo lavorare assieme. stiamo facendo un monitoraggio dei fabbisogni dei comuni, quelli che hanno partecipato, cosa hanno presentato e soprattutto in ottica futura perché bisogna lavorare per i bandi futuri, quali sono i bisogni e quali sono le opportunità cui i comuni stanno lavorando per poter creare un cruscotto di fabbisogni che vengono dal territorio comunale di tutta la Liguria, ricordiamo tutti com'è composta e quanti numeri di piccoli comuni sono composti in Regione Liguria per dare questo strumento, lo chiamiamo cruscotto, a Regione Liguria, all'amministrazione regionale per poter poi andare a ragionare sui bandi futuri. Il tutto, questa governance, nell'ottica di collaborazione che Anci Liguria sta dando a tutti i comuni in collaborazione con Regione. Senta, quando si parla di comuni e soprattutto di piccoli comuni mi viene in mente una cosa, i comuni non sono in grado di intercettare i fondi, i comuni non sono in grado di intercettare i fondi del PNRR, eccetera, eccetera. Qui, qual è lo stato di salute? Allora, si dicono cose anche diverse, anche a livello nazionale, i comuni non sono in grado di gestire i fondi del PNRR. La Corte dei Conti recentemente ha emesso una circolare, diciamo così, dove questa cosa non è, diciamo, esmentita, perché almeno la metà dei comuni italiani gestiscono, almeno la metà gestiscono fondi PNRR. Quindi, è chiaro che, considerando i comuni Liguri, che sono piccoli, la maggior parte sono piccoli, hanno poco personale, i sindaci e gli amministratori fanno volontariato e questo proposito bisogna non fare solamente ringraziarli, perché danno tutti i giorni sul campo l'esempio attraverso quest'opera. Noi di Anci Liguria diamo un supporto insieme alle province, insieme a città metropolitane, insieme a Regione, per dare il supporto tecnico quando le strutture comunali, ripeto, dei piccoli comuni non sono strutturate adeguatamente per fare questa cosa, però i comuni ci sono. Ci sentiamo di dire che i comuni ci sono nella partita.